Benvenuti in questo nuovo video e benvenuti per chi è nuovo nel canale Oggi after patch del car to car che per noi giocatori Xbox sarà leggermente diverso ci servirà l'aiuto di un nostro amico mentre per chi gioca da PS potrà farlo in solo Requisiti rientro al bunker ragazzi qualsiasi bunker non è indispensabile quale autofficina qualsiasi autofficina con all'interno il veicolo da cui prendere le modifiche e almeno un posto con i meccanici per fare le macchine dei civili Quindi a questo punto raga usciamo dal bunker e ci teletrasportiamo direttamente vicino alla nostra autofficina oppure ci andate con qualsiasi veicolo Nel frattempo vi spiego la differenza tra Play e Xbox in questo glitch Allora quelli di Play semplicemente potranno spammare su Anawak il glitch sarà in solo facile e veloce Per noi da Xbox invece avremo bisogno dell'aiuto di un nostro amico che sta in una sessione diversa in mira manuale quindi diversa da noi ragazzi dentro il lavoro da Titano Cosa succederà? Che noi ci dobbiamo bugare con gli snack ragazzi e il nostro amico si bugherà agli snack con Anawak Noi dovremmo fare un'altra cosa Quindi una volta che abbiamo raggiunto l'autofficina ragazzi entriamo all'interno che vi faccio vedere come iniziare il glitch Quindi ragazzi senza cinciscare prendete il veicolo da cui prendere le modifiche cliccate freccia a destra e una volta che siete nel menu fate una qualsiasi modifica L'importante è che fate una modifica qualsiasi A questo punto tornate indietro e una volta che siete a posto scendete dal veicolo e andate dagli snack ragazzi Per chi sarà da play basta che schiaccia freccia a destra davanti gli snack in modo che c'è il menu degli snack aperto E partecipa su Anawak e accetta tutti e tre i messaggi e si bugherà il menu ragazzi Noi che giochiamo all'Xbox dobbiamo tenere premuto il menu di pausa e schiacciare freccia a destra e rilasciare il menu di pausa In modo da aprire il menu degli snack sotto al menu di pausa Capiremo che funziona perché avremo le attività buggate e non ce le farà avviare A questo punto andiamo su abbonamento per chi gioca da next gen E invece per chi giocherà da all gen andrà su criminal stat enterprise bla 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 E dovrà andare sul sito del bunker Poi tornare indietro BB fino a questa schermata E come vedete avremo buggato il menu degli snack A questo punto dobbiamo dirigerci davanti alla macchina Anche quelli da play potranno fare sta cosa e avremo il menu buggatissimo in alto a sinistra Clicchiamo una volta freccia a destra e chi gioca da play ragazzi basta che partecipa su Anawak e accetta tutti e tre i messaggi Invece noi che giochiamo da xbox dobbiamo farci mandare un invito da un nostro amico Che sta in un lavoro a titano in una mira differente ragazzi In un'altra sessione Quindi a questo punto una volta che il nostro amico ci ha mandato l'invito Dovremmo accettare il primo messaggio Nel secondo messaggio gli diciamo di quittare l'attività E a quel punto ragazzi potremmo accettare anche il terzo messaggio E a questo punto sbada bam raga Avremo moddato il veicolo del civile Quindi unico difetto non scegliete voi Vi capitano i veicoli del civile Se vi piacciono li moddate ragazzi Per salvarlo semplicissimo lo comprate in un qualsiasi garage che volete voi Io adesso non lo starò a fare perché non mi piace sta auto L'ho fatto solo per farvelo vedere E niente ragazzi se vi è piaciuto il video lasciate un like Lasciate un commento, supportate Xavix Iscrivetevi nei gruppi di Xavix E a tutti quelli affiliati di Play Bella raga, alla prossima E sbada bam E sbada bam E sbada bam E sbada bam